Il mondo delle fake news al centro dell'incontro organizzato dal Core con Piemonte al Salone del Libro Le regole della disinformazione Il commissario agico Antonio Martuscello ha ricordato come oltre il 50% degli italiani reperisca notizie attraverso strumenti governati da algoritmi mentre solo il 39% si rivolge direttamente a siti web o applicazioni degli editori Secondo Alessandro De Cillis, presidente del Core con Piemonte qualcosa sta cambiando in meglio a partire proprio da Facebook Siamo sempre e continuamente bombardati da flussi di informazione di cui è difficile verificare la fonte Dobbiamo essere presenti e lavorare insieme all'ordine dei giornalisti per riportare un pochino di ordine Qualcosa sta cambiando anche l'euro europeo, anche Facebook si sta rendendo conto che ha bisogno di certificare la fonte e rendere responsabile chi pubblica una notizia, un'informazione e noi siamo al seguito per fare in modo che le cose cambino Sul palco sono intervenuti anche il direttore della stampa Maurizio Molinari Vittorio Del Monte, commissario Core con Piemonte il vice-rettore dell'Università di Torino Sergio Scamuzzi e Filippo Lucci, coordinatore nazionale dei Core com a ribadire l'importanza di contrastare i pericoli delle fake news E l'influenza degli algoritmi sui comportamenti sociali il potere che potrebbe acquisire chi detiene quantità enormi di dati sono i temi discussi nel dibattito Big Data e Società Digitale ospitato nella Sala Argento e moderato dal presidente del Core com Alessandro De Cillis Non esistono prove dell'influenza dei social media sulle intenzioni di voto ha ribadito il direttore dell'osservatorio della comunicazione pubblica e politica dell'Università di Torino Christopher Cepernich mentre è diverso il discorso per quel che riguarda l'influenza sugli atteggiamenti e l'opinione pubblica Juan Carlos De Martin, docente del Politecnico di Torino si è concentrato sullo studio dei dati è un fenomeno che noi ricercatori facciamo fatica a studiare almeno in alcuni aspetti capire cosa sta succedendo la prima cosa è un po' più di trasparenza quindi accesso ai dati e poter studiare i dati è abbastanza chiaro che la sensibilità è in evoluzione specialmente in Europa ma vediamo che sta avendo poi un effetto a cascata anche sugli Stati Uniti per cui direi che si sta cominciando ad andare nella giusta direzione Concordi Filippo Lucci e il giornalista Tercisio Mazzeo sulla necessità di sviluppare competenze e professionalità in grado di orientarsi nel flusso sempre più massiccio di informazioni Antonio Nicita, commissario Agicom ha ricordato la necessità di introdurre regole per limitare l'eccessiva libertà del mondo del web